Mmm... nel 2022 mi sembra un po' strano parlare di... A la nera... di nuovo, dopo tanto tempo. Che carina però come cosa. Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergenze. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Esplosione A la Oscura, set che dovrebbe uscire il 20 di ottobre 2022 e per il quale il 16, questo weekend, insomma, ci sarà il premier event. Che cosa è Esplosione A la Oscura? È il prossimo set che in realtà sta per uscire, quindi è il set che uscirà a brevissimo di espansione da nuove carte per ogni bustina principale. E quindi è uno di quelli che nel 2023, nel Mega Team 2023, vedrà sicuramente delle distanze. Quindi ragazzi, allora, andiamo molto velocemente su Comic Card Database a verificare le carte che sono presenti in questo set. Più che altro non a verificare ma a ripassarle, perché io ne ho già parlato molto di questo set. È un set molto 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 buono, molto molto interessante. E quindi andiamo velocemente a vedere se vale la pena investirci dei soldi o meno. Allora, vi ricordo ovviamente che potete acquistare i pacchetti o i box di questo set o anche le singole su Magic Corner, che trovate qua sotto in descrizione. Allora, affascinato. Prima carta. È esclusiva TCG questa carta? Una buona carta che ci permette di fare da pseudo barrier, cioè l'attivi e i mostri che stanno sul terreno non possono essere offerti come tributo, utilizzati come materiale, prevocazione, fusione, synchro, ex, iso, link. Non è tipo barrier, perché quei mostri attualmente presenti sul terreno in quel momento non possono essere utilizzati, però è un'ottima carta comunque. Poi, ovviamente le carte principali per le quali sta uscendo questo set, ovvero i supporti alla nera. Sono dei supporti buoni. Il mazzo riceve finalmente questi supporti che gli permetteranno di dire qualcosina in più, però onestamente, ragazzi, secondo me il mazzo dal For Fun non ci esce e ne abbiamo già parlato per quanto riguarda la sede della Tier List. Oltre questo, Beastial, archetipo fortissimo, veramente fortissimo. Sostanzialmente questi tre fanno la Lady Crow, sono supporti praticamente diretti, in realtà loro quattro sono supporti praticamente diretti a Dragon Link e anche a Despia e inoltre sono veramente molto forti. Loro sono dei corvi di D che non si prendono col Bear Grave perché il nostro avversario contro un mostro, bene, diventa un effetto rapido, bagniamo un luce o un'oscurità in qualsiasi cimitero, li evochiamo specialmente. Veramente, veramente molto interessante. Lui ha un effetto che Nandface ha da Draghi, lui se viene mandato al cimitero ci permette di mandare un mostro a Bistia o una magia trappola marchiato e lui invece ci permette di scegliere come un bersaglio un mostro che ha specialmente il nostro avversario, mandarlo al cimitero che sono abbastanza interessanti e poi c'è Lubellion che è veramente, veramente molto, molto forte. Engine molto interessante e che dirà sicuramente la sua insieme a Cartesia, Fiammangente Cartesia che è un'ottima carta e si sta già vedendo giocata in tier per andare a fare tipo combo Barone più Pesco 1 perché facciamo Barone sincrando via Garura e Lei, quindi abbastanza interessante. Oltre questo abbiamo Kastira che è il nuovo archetipo, archetipo veramente fortissimo che però vedrà la sua massima espressione con non questo set ma il successivo, ovvero fotone per nuova. Per ora rimane un buon engine, sicuramente Fenrir sarà una carta stra abusatissima perché è praticamente un Panktops solo più forte. Unicorno è il sercino del mazzo, poi abbiamo anche l'X-Ease, sì, ok, però le carte migliori, il mazzo meta, lo avremo sicuramente da fotone per nuova in poi. Dopo questo abbiamo i supporti per ninja, interessanti, ma non è esagerato, il mazzo sì, può essere interessante, ma onestamente non penso possa dire chissà che cosa. Supporti Naturia, si è parlato molto di queste carte, si pensa che Naturia possa diventare insieme a Bernaliser Ferry un buon mazzo, si parla di un ottimo rogue, uno dei rogue più forti, vedremo che cosa andrà a dire questo archetipo. E poi abbiamo le carte più hypate, penso, di questo set, ovvero i nuovi Draco Slayer. Draco Slayer con questi nuovi supporti, con queste nuove carte, ha un bel boost, diventa un mazzo combo che cala tanta roba, è molto interessante, però secondo me è un po' troppo overhypato in realtà, sì, perché è forte, però c'è sicuramente di meglio, non lo so, al momento non mi convince troppo, sì, ok, è un bel mazzo combo, però rimango molto distante dalle opinioni che si è creata certa gente che dice mio Dio, fortissimo, inarrestabile. Dopo questo, supporti verna silfide, vabbè, poco da dire, lei è veramente molto forte, e anche il papero non è male, insomma, è un archetipo verna silfide di supporto per mazzi terra, che si rivelerà sicuramente un buon archetipo, secondo me. poi dopo questo abbiamo delle carte un po' generiche, di queste carte un po' generiche devo farvi notare sicuramente la presenza di supporto labyrinth, molto molto forte, è praticamente la carta più forte del mazzo, poi abbiamo altra roba un po' generica, ah sì, ovviamente, la fusione tierlaments nuova, fortissima, neghino, poco da dire, rottissimo, frechi, le zanne runic, supporto runic, carta interessante, nulla d'esagerato, drago d'assalto all'inero, una carta simpatica, altri supporti all'inero, ovviamente sincro, poi abbiamo Shangri-La, in realtà è Shangri-Ira, vabbè, in ogni caso comunque il mostro Xyz, che ti permette di andare a fare lock delle zone del tuo avversario, quindi molto 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 carino, sprite sprint, che non è per niente male, un supporto che si può utilizzare in tribrigade o in sprite, quindi, vabbè, supporto sprite diretto, quindi molto carino, poi abbiamo, vabbè, supporto forry air, ma va bene, Zialantis, Zialantis è fortissimo, perché sostanzialmente vuole uno più massi con effetto in un link 4, sostanzialmente mandi via Omen, vai a fare lui e triggeri Omen, cosa abbastanza interessante, quindi ci può stare, inoltre ti permette anche di fare, diciamo, pseudo soul charge, quindi va bene, carta veramente molto forte, secondo me, scandalista nel modo sotterraneo, carta assolutamente da tirare su, se volete prendere lo structure deck di Darkward, perché è assolutamente staple in quel mazzo, molto forte, poi, marchiato riconquistato, carta che va a braccetto, con l'Ubelion, molto forte, pesca 1 una volta che viene bannata una roba, praticamente, supporti T-Brigade, supporti generici, supporto Tiara, la rapida Tiara è veramente molto forte, secondo me, poi, vabbè, anche la continua non è male, poi abbiamo, vabbè, sui classici supporti, Scareclaw, Shatrila, va bene, ok, Naturia, e andando avanti, ci ritroviamo con le trappole, che sono, vabbè, classiche cose di Alha Nera, Shatrila, insomma, tutti gli archetipi inseriti e supportati in questo set, c'era una trappola molto forte, che era bestia marchiata, che permette a Dragon Link, sostanzialmente, o chi sta giocando l'Ubelion, di avere uno spacchino, carta molto forte, assolutamente, inoltre, abbiamo, gli import, e carte esclusive, abbiamo, invasione dei noodle, aggiungi alla tua mano la carta in fondo al tuo deck, poi prendi una carta all'altro deck, e mischialo, e metti quella carta in fondo al deck, va bene, abbastanza interessante, ci vuole dire, poi, abbiamo, il cannone da Rumacarmac distruttivo, metti coperti, in posizione di difesa, tanti mossi sul terreno, quanti possibile, poi se qualsiasi giocatore controlla uno, più mossi scoperti, le mandati tutti i mossi scoperti, controlla il cimitero, è una carta interessante, perché ci permette di, a parte andare a spaccare eventuali mostri link, ma ci permette anche di andare a togliere dal terreno mostri immuni, perché non è l'effetto della carta, che sta avendo effetto sul mostro, ma è il giocatore che è costretto a fare una determinata cosa, e quindi è un out molto forte a mostri immuni, secondo me è una carta interessante da tirare su, supporti per quanto riguarda goti, il mozzo è sottosupportato, ha causato letteralmente uno shop di massa delle carte goti, ok, va bene, interessanti, vedremo che cosa concluderebbe il mazzo, secondo me un roghettino lo può diventare, assolutamente interessante, poi nulla, abbiamo gli import delle amazzones, e va bene così, spiritualista amazzones, va bene, abbiamo la waifu, e poi dragole nere che è starlight, allora ragazzi, il set è ottimo, è veramente eccezionale, secondo me è leggermente sotto a pote, in quanto a validità, cioè in quanto a quanto è forte sto set, è leggermente sotto a pote, ma nemmeno più di tanto, è letteralmente il secondo set migliore dell'anno, quindi la risposta viene da sé, vale la pena o meno investire su questo set, ovviamente se non vi interessano tante carte, ma non vi interessano specifiche, per carità, non andate a prendere bustine, non andate a prendere box, andate a prendere direttamente le singole, se invece vi interessa un po' tutto, volete sia Shatrila, che i Beasted, che magari avete TR, volete prendere la fusione nuova, oppure vi interessa Vernalizer più Beasted, Vernalizer più Shatrila, Beasted, insomma vi conviene assolutamente prendere i pacchetti, comunque secondo me è un ottimo set, sul quale investire, un set molto ok, e niente, ditemi qua sotto che cosa ne pensate, e se questo set va a supportare qualcosa che voi avete, e se vi interessa direttamente, detto questo signori, noi ci vediamo come al solito, domenicoci con un nuovo video, aspetto qua sotto nei commenti i vostri pensieri, ciao ragazzi! iscriviti al canale, ciao! iscriviti al canale,